Eccoci tornati in questa avventura, allora, riprendiamo subito, allora, cos'è che dovevamo fare? Allora, missione seconda, ah sì, travestiti da guerriero di Anubis, secondo il piano di Kale, per poter uccidere il funzionario detto le paga della quarta, devi prima recarti la caserma e poterti travestiti da guerriero di Anubis. Parla con Fekir, dirigiti al mercato di Sobe che parla con il mercante Fekir, a me di Kale, potrebbe avere degli incarichi per te. Sì, ho capito, ma ti travesti da guerriero di Anubis? Per gli dèi, è lui, è il forestiero, prendiamolo. Dove cazzo sta scappando? Sì, ho capito, ma io mi devo travestire da guerriero di Anubis, porco Dio. Ah, dovevo uccidere le guardie, non lo sapevo io, bene, penso forse ora devo cambiarmi in fretta prima che qualcuno possa accorgersi della mia presenza. Ah, di fatti, di fatti non capivo un cazzo, porca madonna. Ok, perfetto, pare che nessuno mi abbia visto, devo dirigermi all'erario ora e aspettare che esca il funzionario. Scusate, buon uomo, conoscete un certo mercante di non Fekir? Quel certo mercante sta proprio dinanzi a te. Ah, perfetto, vi stavo cercando, mi manda il vostro amico Kalef. Kalef, è da molto che non lo vedo, purtroppo le cose tra noi hanno preso una brutta piega negli ultimi tempi. Ultimamente sta diventando sempre più avido di potere, ora che il nobile dorato non c'è più avrà il campo libero. Non mi sembrava così assettato di potere, come affermate, non pensate, stiate un po' esagerando? Tu lo conosci poco, ragazzo, non sai quello che è capace di fare Kalef, ma è stato lui a mandarvi da voi, proprio per aiutarvi. Non l'avrebbe fatto se veramente ci fosse così tanto astio tra di voi. La cosa è alquanto sospetta, Kalef non è affatto il genere di persona che aiuta gratuitamente il prossimo. Dietro qualsiasi sua azione c'è sempre un suo tornaconto. Beh, ad ogni modo ora sono qui e ho intenzione di aiutarvi. Beh, in effetti ci sarebbe una cosa che potresti fare per me. Magnifico, ditemi di che si tratta. Stamane doveva arrivare qui una mia carovana, carica di spezie, ma purtroppo non è ancora arrivato nessuno. Temo che sia rimasta bloccata lungo il percorso a causa di banditi. Ormai sono diventate una vera piaga di questi tempi. Suppongo che il mio compito sia di scortare la carovana. Esattamente, dovessi riuscire a portare in salvo almeno tre cariche, altrimenti i miei affari andrebbero in fumo. Non temete, i vostri carichi saranno portati qui al sicuro. Perfetto, la carovana deve essersi bloccata a sud da qui. Non so bene di preciso. Speriamo non sia stata già depredata dai banditi. Mi reclerò lì in medie. Bene ragazzo, ripareremo il tuo ritorno. Dopo che avrò fatto questa commissione dovrò chiedere a Fekir se sta qualcosa di riguardo all'assassino e al nobile. Dubito potrà dirmi qualcosa di utile, ma devo tentare. Sarà meglio che mi sbrighi. Recati a sud dal mercato di Oro e trova la carovana di Fekir che è rimasta bloccata. Ok, allora dobbiamo andare fino lì. Eccoci qua, siamo al ladro, prepariamoci a combattere. Fermi, non sono un ladro, mi manda Fekir e sono qui per aiutarvi a scortare la carovana. Fekir, se dici il vero allora potrai darci una grossa mano. Abbiamo perso molti uomini nel tragetto. Ora ci siamo fermati a recuperare le forze per poter affrontare al meglio i prossimi banditi. Ma dubito che riuscivano a resistere a un ennemi su attacco. Ora avete una spada in più contro i predoni e vi assicuro che so come usarla. Beh, una spada in più in questo momento ci fa molto comodo, guerreo. Proseguiamo verso qua. Sobek, avanti. Mi aspetta la vita eterna, il potere di Anubis ci farà prevalere. Nato per il combattimento, Anubis, rendimi degno di te. Nato per il combattimento, mi aspetta la vita eterna. Il potere di Anubis ci farà prevalere. Ah, siamo assetati. Questosi sembra fare a caso nostro. Abbiamo finito da tempo le scorte d'acqua. Fermiaci un momento per dissetarci e poi proseguiamo. Non mi sembra una buona in Riassobe che ormai è vicina. I banditi potrebbero arrivare da un momento all'altro. Aspettate, ho sentito un rumore. Oh, porco! Proteggiamo i carichi! Dai, tutti in one shot! One shot, one kill! Sì, però mi state uccidendo, eh. Sì, ma quanti cazzo siete? Quanti cazzo siete? Io non posso recuperare tutta sta vita. Ho capito. Sì, ho capito, ma io sono da solo a combattere contro 30.000 nemici. Sono da solo a combattere contro 30.000 nemici. Cioè, meno male che c'ho sto oggetto io. La mia vita è eterna. Meno male che sto giù sto oggetto, se no non sappiamo come cazzo fare. Tutti da solo! Tutti da solo! Bene, i banditi sono stati limitati. Ora posso scortare in sicurezza la cavolana fino al... Eh, ho capito, te li ho scortati io i carichi, eh. Mi aspetta la vita eterna. Eccolo lì. Ce l'hai fatta, ragazzo. Le mie spezie sono salve. Ah, temo proprio che la scorta della cavolana non ce l'abbia fatta. Purtroppo no, Fekirne. Fortuna che c'eri tu, Em. Per domenio, non so ancora il tuo nome, ragazzo. Manutep di Karum, signore. Manutep, non sei forse colui che a quanto si dice ha ucciso il nobile dorato? Proprio così l'ho ucciso su commissione per Kalef. Ah, come pensavo, ti ho abusato per raggiungere i suoi scopi, tipico di Kalef. A quanto mi ha detto Kalef, il nobile dorato dava fastidio a tutti qui a Sobe. Penso di aver fatto un favore a questa città. E soprattutto a Kalef. Non avevo scelta, avevo bisogno di sapere alcune informazioni che Kalef possedeva. In cambio avrei eliminato il suo più acerimo concorrente. Se non l'avessi fatto, Kalef mi avrebbe consegnato le guardie. Ma quali sarebbero queste preciose informazioni? Riguardano un pericoloso assassino che si aggirava nel mio villaggio. Mi trovo a Sobek proprio per questo. Scoprire chi fosse il suo mandante. Kalef sapeva di questo assassino. E grazie a lui ho scoperto che, detto a tutto, c'era proprio il nobile dorato. Che a quanto pare si è pure rivelato in combutta con i greci. Ma è terribile. E c'eri peggio, ho scoperto che l'obiettivo che l'assassino doveva eliminare per conto del nome ero io. Per Iside, che sciagura. Ma per quale motivo il nobile voleva la tua morte? Cosa ci avrebbe guadagnato i greci in tutto ciò? Questo è ancora un mistero per me. Sferò che voi mi poteste dire qualcosa riguardo. Ahimè, temo proprio di non sapere nulla di tutto ciò. Per caso conoscete qualcuno a poter darmi le risposte? Beh, gli unici che mi vengono in mente sono gli anziani del consiglio. Ma non posso rivolgermi al consiglio. Sono ricercato. Penso che se mi presentassi come minimo mi metterebbero in cella. Ma il consiglio deve sapere che il nobile era in combutta con i greci. Questo significa che potrebbero essersi infiltrati qui a Sobek. È vero, ma per quanto ne sappiamo anche i miei miei del consiglio potrebbero essere d'accordo con i greci. Non posso correre tale rischio. Ma potrebbe essere l'unica possibilità di Manutep. Non saprei. Come posso fidarmi? Non è questione di fiducia. Se tu direi di essere al corrente di importanti informazioni sui greci, gli anziani saranno costretti ad ascoltarti. E se tra di loro ci fossero dei traditori e se qualcuno di loro stesse aiutando i greci? Così facendo è facile che i traditori vengano allo scoperto. Sotto tali pressioni non potrebbero mantenere la loro farsa tanto a lungo. Può darsi che mi ascoltino, ma in ogni caso mi farebbero pagare caro il fatto che abbia liberato dei prigionieri e che abbia ucciso delle guardie. Se dai le tue ragioni sono sicuro che non ti puniranno più del dovuto. Inoltre l'uccisione del nobile dorato gioca sicuramente a tuo vantaggio. Penso che a questo punto non ci siano altre possibilità. Non mi resta che tentare. Non preoccuparti, ti accompagnerò io stesso al consiglio e garantirò per te. Ve ne sono grato. Meglio andarci subito, le spesse possono aspettare. Allora andiamo. Tu, in nome della legge di Sobek, ti dichiaro in arresto. Ma che? Dannazione, scappa Manutep subito. Cazzo, sono circondato. Ecco, di nuovo qui siamo finiti. Come è potuto accadere? Come facevano le guardie a sapere esattamente dove ero? Qualcuno deve aver rivelato la mia posizione, ma chi poteva sapere dove mi trovavo? Al tola mercante, nessuno può avvicinarsi alla prigione. Ordine il consiglio. Sono Kalef, vorrei parlare col prigioniero in privato. D'accordo, ma fate in fretta. Aprite le porte. E ora che succede? Bene, come avevamo spiegato ci si rivede. Kalef, ma che diavolo ci fai qui? Spero che le guardie ti abbiano trattato bene. A quanto pare è stato più facile del previsto. Ma di che parli? Che significa che è stato facile? Davvero non ne ho capito. Ti facevo più sveglio di così. Un momento, ora che ci penso, l'unico a parte Fekir che sapevo eri tu. Bastardo, mi hai consegnato le guardie dei cittadini. Hai servito me al consiglio di Sobe su un piatto d'argento. Direi piuttosto che alla fine ho addempito il mio dovere di buon cittadino. Mi ha detto Filippo, con che coraggio ti presenti qui? Vuoi prenderti gioco di me? Beh, tecnicamente mi sono già preso gioco di te. Ah, fottiti carogna. Pensi davvero di poterla passare liscia? Giuro che la pagherai cara. Veramente l'unico che qui dovrà pagare cara sei proprio tu, mio caro Mano. Dovrai rispondere di omicidio e ostacolo alla giustizia di Sobeck. Molto probabilmente il consiglio ti condannerà a morte. Non così facilmente. Ho il diritto di difendermi. Sei proprio un gemmo. Credi davvero che il consiglio ti ascolterà dopo tutto quello che hai fatto. Ma ho ucciso il nobile dorato. Come dissi anche tu, questo va sicuramente a mio mondo. Non essere tanto sicuro. Vedi, mi sono preso la premura di informare personale in questo io che fui io a mandarti ad uccidere il nobile. E che fui sempre io a dirti dove si trovava. Quindi se il nobile non è più una minaccia è solo grazie a me. E ovviamente per dimostrarti completamente devoto al bene della città ho dato loro anche la tua esatta ubicazione. Quindi è per questo che mi avete mandato da Fekhi. Una volta là, trovarmi sarebbe stato un gioco da ragazzi. Geniale, non trovo. Fekhi mi aveva avvertito che non ci poteva fidare di uno come te. Se solo lo avessi saputo prima. Devo ammettere che un po' mi è dispiatuto farti tutto questo. In fondo ti sei dimostrato un guerriero più che valido. Peccato. Credo che se tu fossi andato a Memphis avessi avuto buone probabilità di vincere il torneo. Ma gli affari sono affari. Già, ricchezza e potere sono le uniche cose che contano per te. Eppur di ottenerli sei disposto a rinunciare dal tuo onore. L'onore ha un valore totalmente inutile e dannoso per il raggiungimento dei propri scopi. Ti sbagli. Senza onore si resta nella vergogna, nella mediocrità e nella profonda bassezza umana. E per questo è tutto ciò che sei, Kalef. Nient'altro che una merda umana. Ma tu ci credi tanto, diverso da me. Non è vero, in realtà noi due siamo uguali. Credi che semplicemente impugnare una spada ti rende onorevole? Dimmi cosa ci dovrebbe essere di onorevole nell'uccidere senza scrupoli delle guardie per liberare dei prigionieri. Cosa ci è di onorevole nell'essere disposti a sbarazzarsi con il mio avversario senza battere ciglio. E tutto questo per delle semplici informazioni. Non sei onorevole, Manute. Sei solamente patetico. Ho agito per il bene del mio villaggio, per rispettare la volità del mio consiglio, per porre giustizia ai crimini che mi sono compiuti impunemente a calma. A differenza tua non agisco per me stesso, ma per il bene della mia gente. Questo non cambia niente. Ciò che hai fatto è comunque disonorevole, indipendentemente se l'hai fatto per te o per qualcun altro. Ed è anche per questo che ora sei nella merda, fino al collo. Mentre io mi godo il mio meritato premio. Un altro passo verso la grandezza. Per quanto in alto ti potrai elevare. La giustizia di Orisiride non tarderà ad arrivare. Sono sicuro sarà ben felice di riceverti. Quando ti spedirò da lui nella duat. Ah, me ne fotto di Orisiride e dei tuoi dannati dei. Certe stronzate non mi intimoriscono. Non sai di che parli. Oh no, so benissimo il fatto mio. Ora che il consiglio mi ha nominato tesorieri Sobek come ricompensa per i miei servizi. Controllando tutto il flusso di enero potrò avere impugno in te la città. Da più avanti mi sbarazzerò anche dei quei spocchiosi degli anziani. A quel punto diventerò il padrone inconstratrato di Sobek. Ma tutto questo non prima di averti vederti appeso al centro della piazza. Questo non suggerirà. E cade. Niente. Facciano le guare. Addio Manutep di Carlo. È stato un piacere fare affari con te. Che tu sia maledetto Carlo. Che tu possa partire alla peggiore sofferenza quando ti ucciderò. Ehi. Indietro. Fanculo. Merda. Ah, devo assolutamente uscire di qui o tutto sarà stato inutile. Appena sarò uscito di qui truccerò quel figlio di puttana senza pietà. I corpi dovranno faticare a mangiare i resti da quanto l'avrò fatto a pezzi. Deve esserci in modo per uscire. E grazie a nome dell'intera guardia e vi ringrazio molto di aver collaborato alla cattura di quel farabutto. Ho fatto quello che ogni cittadino onesto deve fare a difenza di coloro che invece collaborano con i criminali. Sì, fecche non può essere andato troppo lontano. Lo troveremo. Spero lo troviate presto. È giusto che anche i complici dei criminali paghino la loro inservenza in egual modo. Non temete. Presto giustizia sarà fatta e l'ordine verrà subito ristabilito. Senza dubbio. Vorrei farvi complimenti anche per la vostra nuova carica. Le mie più sinceri grattatori. Vi ringrazio. Sono sicuro che con la vostra esperienza riuscite ad amministrare egregiamente le casse della città. Farò di certo del meglio. Ora sarà meglio che vada. C'è molto lavoro da fare. Certamente. Volete una scorta? No, vi ringrazio. Non serve. Ora che col criminale è dietro alle sbarre mi sento molto più sicuro. Come volete. A presto. Signore, la città è sotto attacco. Sembrano mercenari. Sono in centinaia. Da dove stanno attaccando? Da tutte le parti, signore. La città è circondata. Ma che? Per i dei. Dobbiamo muoverci. Avvisare tutte le guarnigioni che si preparino alla difesa. Subito, signore. Trasferite tutti i civili al sicuro nell'area sacra. Mentre io difenderò personalmente il centro della città con le guardie d'elite. Agli ordini, signore. Calif, voi restate qui. È più sicuro. Piacente, signori. È stato un piacere fare affari con voi. Ma dove andate? Vi metterete in... Quelli in pericolo siete voi che vi assinate a difendere una città perduta. Siamo circondati da centinaia di mercenari. Vossi voi non basta. Sarete sovrastati. Siete impazziti. Vi uccideranno se andate allo scoperto. Pazzi siete voi che ancora rimanete. Se fosse sani, divente e ve ne andrasse subito. Ed è esattamente quello che farò. Addio, che osidite e abbia pietà di voi. Siete usciti di senno, Calif. Do tornate indietro. Pa, pazzo furioso. Beh che si fotta. Se vuole andare nelle braccia di Anubis, faccia pure. Forza, non perdiamo altro tempo. Tutti i vostri posti. Signori e signori. Ascoltate, porto un ordine da capo. Lascio testo. Il capo vuole che si preparino immediatamente le difese di tutte le guardie in generale. Sotto attacco. D'accordo. Eseguiremo gli ore. Riferisce a capo che la guardia della prigione sarà pronta al più presto. Certamente. Cosa ne facciamo le prigioni? Il capo è ordinato che non venga fatto uscire per nessuno. Deve rimanere dov'è anche se la prigione dovesse essere assaltata. Allora da lì non si muoverà. Lo sorveglieremo costantemente durante tutto l'attacco. Bene, riferisco subito al capo. Cazzo, Sobek è sotto attacco. Devo andarmene subito da qui. Ehi, chi va là? E' morto. Quindi? Non succede niente? Che cazzo sta succedendo? Si è bloccato! Che cazzo è successo? E' crashato tutto! Niente, ho fatto un po' di tentativi, ma nulla. L'avventura si blocca sempre qua. Ho aspettato pure dieci minuti, ma non succede veramente un cazzo. Spero di risolvere nelle prossime parti.